All'ordine del giorno, la lista civica cambierà, ha richiesto al sindaco e alla giunta di creare XNOV, un portale web dedicato allo studiare Ravenna. Di cosa si tratta? Diciamo che è un'idea che è partita su suggestione di altri atti che sono poi circolati durante i scorsi consigli comunali che riguardavano soltanto parzialmente alcuni servizi che potevano essere implementati in favore degli studenti universitari e abbiamo pensato sulla base di questo di provare a proporre una formula che possa essere inclusiva di tutti quei servizi che possono essere utili per gli studenti universitari in città e quindi creare un portale web dedicato o in alternativa sfruttare quello che già la Fondazione Flaminia ha presente sul territorio e che già gestisce comunque la realtà universitaria cittadina e quindi implementare appunto il loro portale web arricchendolo di tutti quei servizi che la città offre per gli studenti fuori sede. In funzione anche di un aumento di questi studenti universitari che saranno previsti nella nostra città sia grazie al prossimo corso di laurea in medicina e chirurgia così come grazie allo studentato che in teoria dovrebbe essere finanziato dal comune di Ravenna e quindi messo in funzione, speriamo almeno entro il mandato e sarà adibito lì di fronte alla stazione, ci sarà sicuramente un aumento dello studentato fuori sede e quindi alla luce di questo creare un portale web funzionale magari anche tramite future app, applicazioni dove gli studenti possono guardare insomma quello che la città offre da scontistiche, da cinema, da parchi pubblici stalli per bici, bike sharing, tutto quello che uno studente fuori sede può cercare per ottimizzare le proprie giornate e comunque adattarsi un po' all'ambiente in cui vive e andrà a vivere negli anni a seguire.